Oggi voglio parlare molto seriamente alle ragazze e ragazzi di oggi. Ragazze e ragazze di oggi, non guardate con gli occhi del danaro, non guardate al danaro come alla soluzione di tutti i vostri mali. No ragazze e ragazze di oggi, il danaro non vi porta da nessuna parte, il danaro non è la felicità. Riscoprite invece i veri valori della vita, riscoprite che cos'è la fede, riscoprite l'importanza dell'amicizia, riscoprite la centralità della famiglia, riscoprite dov'è realmente l'amore. Ragazze e ragazze di oggi, riscoprite l'amore. No, non guardate con gli occhi del danaro, non guardate al danaro come alla soluzione di tutti i vostri problemi, alla soluzione di tutte le vostre difficoltà. Il danaro, il Dio danaro, guardate. No, non guardate il Dio danaro. Il danaro non vi porta la felicità, non illuminate i vostri occhi di danaro. Il danaro non vi porta da nessuna parte. Ragazze e ragazze di oggi, ascoltate quello che dico. Ve lo dico col cuore in mano. Ragazze e ragazze di oggi, non guardate con gli occhi del danaro. Mi raccomando.